UPCOMING FEATURES Ma come targeting spray Ecco da blue Che bella questo visuale senza caster Mamma mia Ma è ovvio che vinci Snowy, questa è interessante solo per il nome Non è vero Non è vero Daglie Eh vabbè, commentato sul recovery Che carino Fragli basta un highlight, basta qualunque cosa Non l'ho preso Non sta attaccato Se perde i guai Vabbè Ti avevo detto che il blue vince Aspetta è best of five No, è best of three Ma ha vinto Vinto, vinto Ho già freddo Vabbè, tu ti perdi sempre cose migliori Ho sentito un ground bomb Praticamente Ha fatto una serie di mosse Volte a Volte a colpire l'avversario in edge card Ha usato tante mosse varie Diverse Non ha assolutamente fatto crap Quattro volte Ti andavo premuto Vabbè, è morto Invece no Vabbè Te l'ho premuto Vabbè Vabbè Non mi ha premissato il truffo Eh, vai tra Ho già di nuovo up Mi sa che ride Oh, zi Pfff World Championship Questi sono i mondiali Porco due Questi sono i mondiali Eh, bro Eh, bro Eh, bro Ti ho detto Lo guarda in faccia Ti stanno guardando in faccia Che, che è sto gioco Vabbè Brolalla Cosa sta facendo? Siamo tornati nel 2013 Quando Brolalla ancora non esisteva E stavano più fermi di prima Perché non esisteva quindi Stavo Devo ancora capire perché è tutto giallo Perché la nuova arma è giallo La nuova arma è poi da svento lo scudo Tra quello che manca in Brolalla è la difesa in generale Quindi devi proteggere Con lo scudo tu potresti approcciare No, ecco che spara la cazzata No Con lo scudo tu potresti approcciare qualcuno Mentre ti difendi Senza Esatto Senza essere in tardo E niente Hai vinto Brolalla È stato al massimo Madonna Ecco infatti LOL E ti dico Carò fiero Carò fiero O vince o perde Ah ma si fin perde Fuori dal torneo Eh si Per questo sto Sto di potrebbe essere un po' importante Ma perché si vienza sull'anime fame? Ma che game ha? E sta vincendo No è progress Fuck Oddio sono entere copri Oh Oh Che clutch Oh VAMOS Carai Osukarai VAMOS 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 Semifinal winners bracket Ancora winners No aspetta come winners Aspetta si metto potto no? No fra Sto bracket Non ha Quelle parole di sotto non hanno senso Esistono solo per ingannarti Non so anch'io cosa voglio dire Ma non è la tua volta Ci saranno state 7-8 grand finals Non sono d'accordo Ah no recover Ah no side Guarda Diretti No Beh Cazzo Ma Nuova arma finalmente? È lo scudo Guarda è lo scudo Avatar È dell'acqua però È nuova È avatar 2 Scudo d'acqua Si Scudo d'acqua No i cappellano Ma Basta Ecco qua Basta Basta Poi questo è Autori Autori Non aveva abbastanza Figa Figa però l'animazione Questo è core Si Core Wow Oh mio Dio che cringe Sta parando Fraul cream esiste WTF È reale Oh no Oh eccolo Eh Oh Battle boots Battle boots Oh mio Dio Oh Ok Questo è figo Ok Active input Active input anche in aria Praticamente gauntlets ma per i piedi È interessante però I mean Oh mio Dio Quello è il dare vero Quello sarà il seiro Qua cosa del già Oh mio Dio Oh mi sembra velocissimi Che figata però Sembrano troppo veloce Questo è figo Guarda Però sembra più veloci dello spadone Oh Oh Automatic gimp move Ma che cazzo Battle boots Ho le scarpe Ho aggiunto le scarpe Ho provato Si Sei morto Oh 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 Cazzina Non ci credo Non ci credo Non ci credo Oh Ella Ella Come è possibile che riuscito a fare wake up dalla Ma che è la falce Vabbè la falce non ha senso No No Quello è un altro rito Oh Oh Daie 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 Oh no 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 Mi sei bloccato Mi sei bloccato la stream No Sono rimasto a città Sì Sono rimasto a 55 Recoveri Forse era più safe Non ci credo Non ci credo Non ci credo Vergogna Ti dirò Non sembrano OP Però Sicuramente A me invece sembrano molto forti Ah non bisogna di gestire Puoi tenere di trasportarti in giro Ma che c- E che mi sembra che parte troppo veloce l'attacco C'è proprio che parte a frame 1 Eh sì Tipo Hai presente il martello che fa i land light Ecco la stessa cosa Ma è tutto low range Cioè non c'è nulla che Ma c'è pure le signature Quello è Ok quello è recovery Quello è il seer suppongo Seer active input che porta avanti Quella dal side light Quella del D light Ok Credo di aver capito questo le mosse Mi vietta a fare uno via uno mentre che aspettiamo la gente Ma quella è la sig di È la sig di sentinel Ah sì È un misto C'ha delle sig a cazzo Sì hanno messo sig Il grand pound c'ha il Il tracking del Dei gauntlet Assieme a Alla range Delle catar Ha bisogno che le catar tipo fanno una specie di 180 in basso Ho il travis numero 1 Eh sì vedi? Hai visto? Ha fatto Quando putti verso l'alto è l'active input 1 E l'active input 2 quando fa la piatta in Oh mio dio Una secca Figata Porco due No figo 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 Meno 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 Ora quello inizio a fare Mamma che Oh 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 Godoo Ammazzalo Ammazzalo Porco Sì No Oddio l'ho preso Aspetta Oddio Cosa 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 Eri Cosa Prendoli Le fasi Di nuovo in grand final Non so Sai che forse Su sto stage Forse si Fra Da Sare tottichino Dai No Ok Oh No non shot Wow Non ha più Le sig di zary Ha perso Ha perso Teramente GG �r Si vabbè tiny Cagnoltissimo Mi sto dicendo Bro Non dobbiamo lasciare Guardi quest'alto spazio. Bro, stavo per perdere 2v1, sono dei scassi. Oh, finalmente gli serve il coaching, fra. Oh, arriva Sarme, che ci vuol mettere uno, sono di più. A godi gli serve il coaching. Mid-7, però. A Bumi non piace. Guardalo, guardalo, guardalo. A Bumi non piace il coaching. Boh, Boh, Bumi, abbiamo vinto. Madonna, ovunque Bumi c'è. Oh, ok, dai, ci stai. Wow. Bumi e Snowy. Wow. No, io la faccio più di perdere. Yes. Yes. No, io la faccio più di perdere. 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 Grazie per la visione!